Salve, nel contributo odierno parleremo di uno dei grandi poeti spagnoli del Novecento, vale a dire Juan Ramón Imenes, e di quella che forse è la sua più importante raccolta poetica, intitolata La Stagione Totale. Juan Ramón Imenes è stato uno dei più grandi poeti della sua generazione, fu anche premio Nobel per la letteratura. Lui era nato nel 1881 a Mogher, che era in provincia di Uelva, e dove trascorse praticamente gli anni della sua infanzia. È importante in questo caso in qualche modo analizzare anche la biografia di questo straordinario poeta, uno dei più importanti sicuramente della generazione, di quella generazione nata sul finire dell'Ottocento, uno dei pochi poeti anche che mantiene una freschezza alla sua lirica, alla sua poesia, una bellezza anche stilistica veramente insuperata. Parlare ovviamente della sua esperienza significa anche parlare in qualche modo della poesia del Novecento, questa sua poesia che possiamo definire caratterizzata da una musicalità esteriore e nello stesso tempo da una sottile musicalità interiore, dalla descrizione del paesaggio esteriore al paesaggio dell'anima, come il poeta riesce quindi a muoversi in maniera così disinvolta, dalla malinconia alla strenua volontà di bellezza e alla volontà anche di innalzamento. Tutti questi sentimenti, queste espressioni, quindi anche dell'animo umano, sono perfettamente condensati nella poesia di Juan Ramón Imenes. Lui comincia a scrivere intorno agli inizi del Novecento, comincia a mandare le sue prime poesie alle riviste di Madrid, dove proprio va a vivere anche nella capitale spagnola, dove comincia a incontrare anche i grandi poeti della generazione, da Villa Espesa a Rubendario a Salvador Drueda, ad esempio successivamente anche Michel de la Mugno, Ortega y Cassé e ovviamente anche García Lorca, insomma tutta quella grande generazione che ha fatto sì, che ha reso in qualche modo la Spagna uno dei paesi più importanti dal punto di vista letterario, ovviamente il periodo prefranchista, prima ancora della guerra civile spagnola. Infatti la sua prima raccolta poetica compare proprio nel 1903, quindi siamo proprio all'inizio del Novecento. Successivamente Imenes comincia a viaggiare anche, a lasciare la Spagna, siamo intorno al periodo della prima guerra mondiale, tra il 1915 e il 1916, e comincia a viaggiare anche non solo per l'Europa ma anche in America, dove va a vivere a New York, finché poi non rientrerà successivamente a Madrid. Siamo adesso agli inizi chiaramente degli anni venti, dove un periodo storico che lo vede coinvolto in prima persona al centro della più intensa vita culturale della Spagna di quegli anni, diventa fondatore della rivista Indice, dove collaboreranno grandissimi autori come Machado, come abbiamo detto Ortega e Cassè, Lorca, Salinas, Alberti, insomma tutta quella grande generazione che vedranno in qualche modo Imenes un po' il loro mentor, il loro maestro. Siamo infatti in questo periodo dove esplode anche la sua fama, la sua fama di poeta, che si diffonde con grande facilità non solo in Spagna ma anche in tutta Europa. Chiaramente però la guerra civile rompe questo equilibrio, rompe l'equilibrio nei momenti in cui il poeta poi infatti deve scappare dalla Spagna, proprio perché non si riconosce ovviamente nel clima fascista terribile che la guerra stava scatenando, e va a vivere negli Stati Uniti, dove comincerà a dare anche conferenze nella Carolina, nel Maryland, a Washington, insomma nelle diverse università americane, fino a quando poi non va a vivere anche nel Sud America, tra l'Argentina, l'Uruguay, un po' una vicenda simile a quella, se vogliamo dire così, di un po' ed anno strano come Ungaretti, che poi sappiamo andrà a vivere in Sud America. Questo periodo che lui definisce anche di esilio, di esilio volontario dal suo paese, è il momento in cui lui comincia a scrivere anche le sue poesie, i suoi libri più importanti. Credo anche molto difficile per lo stesso Imenes, non soltanto per la sua grande sensibilità che ovviamente si riesce a percepire leggendo ogni suo verso, ma anche per la sofferenza della guerra, anche dell'allontanamento dal suo paese, anche per questioni personali, si lamenta infatti molto delle città americane, vede già appunto l'America come il paese del consumismo, definisce appunto l'America questi paesi senza piazza, dove la piazza che invece è tipica ovviamente dei paesi latini, ovviamente come la Spagna, come poteva essere anche l'Italia, è un luogo di aggregazione, è un luogo di incontro dove i grandi poeti, i grandi artisti anche declamavano le proprie composizioni. Infatti proprio questo lo porta a viaggiare continuamente questa sofferenza che lui in qualche modo esprime poi nelle sue opere, finché poi non va a vivere a Puerto Rico, in qualche modo vede come una via di mezzo tra la Spagna, essendo ovviamente uno stato che è chiaramente abitato da molti immigrati spagnoli, che però diciamo non porterà una grande consolazione alla sua esistenza, tanto che infatti poi morirà sua moglie Zenobia, a cui lui era legato fortemente, nello stesso tempo otterrà il premio Nobel e poco prima di morire, che la morte lo sopraggiungerà infatti nel 1958. Che dire, commentare le poesie di Menetz significa in qualche modo entrare nella grande lirica del novecento. Quindi la bellezza sensibile del paesaggio, anche dei piccoli dettagli che il grande autore sa cogliere con una straordinaria maestria, ad esempio un uccellino che si poggia lì sul balcone, sulla ringhiera della sua casa, e nello stesso tempo anche l'astrazione dell'anima, il paesaggio interiore. Riuscire a fondere in maniera così perfetta come pochissimi poi ti sono riusciti, ecco un altro può essere forse montale in Italia. La bellezza esteriore, quindi anche appunto la stagione che in questo caso, non a caso il titolo è la stagione totale, che rappresenta anche non solo la stagione intesa appunto della stagione climatica, ma anche la stagione, quello il tempo che si vive al nostro interno, nell'interno del nostro cuore, della nostra anima, quel paesaggio che rimane sempre incontaminato, immutato. In qualche modo quindi tra la natura e lo spirito. Non è un caso che infatti gli autori prediletti dei nostri Menetz sono i grandi poeti tedeschi dell'Ottocento, ovviamente Goethe rimane una grandissima influenza, autori anche come Tagore ad esempio, un poeta ovviamente indiano, in questo caso la poesia indiana, quindi parliamo di autori già del primo Novecento, o comunque anche autori inglesi, sempre dell'Ottocento romantico, come Shelley o Rilke addirittura. Questa sua capacità contemplativa, ecco la contemplazione, che è al centro di tutta la grande lirica di Menetz, infatti la sua esperienza non soltanto descrive a differenza ad esempio di un García Lorca che racconta la realtà spagnola, quindi la realtà anche dei contadini, la realtà sociale, la guerra civile ovviamente, tra l'altro un poeta impegnato, sappiamo anche politicamente, verrà appunto ucciso purtroppo il nostro García Lorca. La differenza della poesia con quella di Menetz, che è stato come abbiamo detto anche un poeta che ha influenzato in qualche modo tutti i suoi connazionali, sta proprio nella sua capacità di raccontare non solo la Spagna ma anche l'intera umanità, l'intero corso del mondo, della storia, dei paesaggi, della bellezza anche del mondo, di quegli aspetti, della musicalità come abbiamo detto che è uno dei caratteri che lui cerca di descrivere con maggiore attenzione. Sappiamo infatti che questa è una poesia che nasce proprio da questa esigenza di esprimersi, dall'esigenza anche di descrivere quei momenti che potevano anche essere gli ultimi, ricordiamo appunto un poeta che ha vissuto quasi tutta la vita in esilio alla fine, quindi un monologo interiore che però non va a deragliare mai nella poesia eccessivamente intimista come poteva essere tipico dei poeti ermetici ad esempio o dei poeti simbolisti da cui chiaramente Menetz trarrà anche ispirazione, ma una poesia che invece riprende molto l'esigenza di guardare in noi stessi per poi poter raccontare e esprimere il mondo stesso, il mondo che è lì fuori. Ecco perché la poesia ovviamente di Tagore, quindi anche della spiritualità ovviamente di un poeta induista come era Tagore, avrà sicuramente una grande importanza. Altri aspetti fondamentali anche per arrivare alla conclusione del nostro contributo e poi leggeremo velocemente una delle poesie secondo me tra le più belle di tutta questa raccolta e proprio appunto questo continuo scorrere del tempo. Lo scorrere del tempo che come abbiamo detto si esprime non solo nei paesaggi, nel cambiamento del paesaggio, nelle stagioni, le stagioni dell'anno che cambiano, le ore, ma anche gli adi, gli adi con le persone care, nel caso ovviamente anche poi della morte della moglie sappiamo, oppure i ritorni, il sogno della realtà è un'espressione quasi onirica e nello stesso tempo il bisogno però di cogliere quella realtà ultima che è davanti a noi. La certezza e l'illusione, l'amore ovviamente, la solitudine, l'anima, l'istante, come anche la vecchiaia e la morte, sono tutti temi che ovviamente ricorrono nella vita umana e che questo grandissimo poeta ha saputo condensare nelle sue liriche, in questo grandioso paesaggio, un paesaggio che sembra sempre autunnale, che però è cosparso anche nello stesso tempo dalla luce. La luce, ecco, il bisogno di ricercare la luce è sicuramente uno dei passaggi chiave di questo grandissimo autore. Adesso andremo a leggere una delle poesie più belle, secondo me, della raccolta. Tra l'altro bellissime anche leggere questi testi ovviamente in lingua originale, spagnolo, che ovviamente evocano un'emozione anche più forte. In questo caso ovviamente leggeremo la traduzione italiana di questa bellissima poesia che si intitola Messaggera della stagione totale, il nome che dà anche il titolo a questa straordinaria raccolta. I frutti tutti erano suo corpo, i fiori la sua anima, e giungeva, giungeva, tra il fogliame verde, rosso, rame, lungo tutte le vie, dal cui fondo con alberi ormai spogli, assunti infine ad un'altra verdezza, ella era venuta, ed erano sua casa naturale. E a che veniva, a che? Soltanto a non finire, a inseguire in sé tutta la luce, a illuminare in sé tutta la vita, con forma veritiera e sufficiente. Era l'elementare concentrato, in completezza leggera e deletta, acqua e fuoco con terra e aria, cerchio ideale di somma grazia. Combinazione e metamorfosi, specchio di iride magica di sé, che vede ciò che è fuori dal di fuori, e dal di dentro ciò che è dentro. La delicata e forte realtà dell'immagine piena, messaggera di stagione totale, in lei tutto si faceva vista. Messaggera, bello vedere per veder sé stesso, in sé stesso, dentro uno, una stessa, la gloria che ha origine da noi. Ella era questa gloria e lo vedeva, tutto, tornare a lei soltanto, solo, nascere da lei tutta. Messaggera, tu esistevi e ti sapevo esistere. Grazie.